In attesa del fischio di inizio. Mancano pochi giorni e la stagione 2012-2013, targata Calcio Liguria, prenderà il via. Si rinnova l'appuntamento con Calcio Liguria, l'organizzazione genovese impegnata nello sviluppo e nella promozione di campionati amatoriali. La presenza di molte squadre storiche fa da richiamo per le altrettante numerose squadre nuove che per la prima volta si affacciano alla realtà di Calcio Liguria e desiderano scoprirla. C'è un solo modo per scoprire la realtà di Calcio Liguria, vivere con intensità ogni torneo e campionato, apprezzarne le sfumature e sentirsi protagonisti. Grazie a Calcio Liguria si può essere protagonisti anche se si è giocatori amatoriali. Immagini dai campi, interviste, fotografie, tutto come nel calcio dei professionisti. Calcio Liguria pensa a rendere piacevole la tua esperienza e a farti divertire. La sfida settimanale è il sale dell'attività, la voglia di vincere, il desiderio di calciare in rete un pallone e conquistare i tre punti. Il giorno dopo visitare il sito di Calcio Liguria, guardare i risultati della giornata, scoprire cosa hanno fatto le avversarie, gioire per la nuova classifica, guardare i commenti e le pagelle di ogni singola partita. Nell'epoca dei social network, Calcio Liguria non si tira indietro. Partecipare ad un campionato di Calcio Liguria significa fare parte di una comunità di 5.000 iscritti che condividono la tua stessa passione per il gioco del calcio. Grazie a YouTube e Facebook rivedi le immagini delle tue partite, puoi commentare gli articoli e i video sentendoti ancora più protagonista. Da quest'anno il sito internet di Calcio Liguria si arricchisce di nuove curiosità. Le rose delle squadre, le fotografie dei calciatori e le formazioni di ogni singola partita, i tabellini. Oltre a tutte le informazioni riguardanti i tornei e i campionati, si trova una web tv 24 ore con tutti i video e tutte le immagini delle partite. Sul sito si trova anche la sezione Sport Village, dedicata alle convenzioni attive e alle aziende che sostengono l'attività di Calcio Liguria. Calcio Liguria conta oltre 5.000 partecipanti. Sui campi di Genova e provincia ogni settimana si giocano circa 100 partite, per un totale complessivo di oltre 3.000 partite all'anno. Il calcio amatoriale, targato Calcio Liguria, sta crescendo. La voglia di giocare è tanta e va di pari passo con le aspettative di chi cerca un'organizzazione sana e seria. L'attività di Calcio Liguria si gioca su oltre 20 impianti sportivi cittadini. Calcio Liguria è attiva nell'organizzazione dei seguenti campionati. Campionato a 7 maschile, campionato a 7 femminile, campionato a 5, campionato over 39, campionato over 35. Oltre ai campionati invernali si giocano numerosi tornei di breve durata. Tra questi il torneo Genova Viva, il torneo Genova Cup, il torneo Festa del Mare, il torneo femminile Festa del Rosa e il famoso torneo Tutto in una notte, Notte dei Record. Calcio Liguria è un concentrato di molte esperienze maturate negli anni sui campi di calcio. Lo staff organizzativo di Calcio Liguria mette a disposizione degli sportivi le proprie competenze professionali per offrire un prodotto sempre più moderno e al passo con i tempi. Siete una bella terna, eh? Andate vietati noi tre, guardate come siamo qui tutti. Guardate come siamo. Anche il modo di giocare il calcio amatoriale infatti è cambiato. Da anni si gioca su campi in erba sintetica che rendono il gioco più veloce e certamente più spettacolare. Negli ultimi anni l'età media dei partecipanti si è appassata aumentando il livello tecnico e agonistico dei campionati. Oggi non si può più pensare di giocare attività amatoriale senza un'adeguata preparazione psicofisica. Un adeguato stile di alimentazione e l'allenamento possono evitare spiacevoli inconvenienti, infortuni o malori. Calcio Liguria ha ideato addirittura una preparazione atletica per tutti gli amatori. Il progetto atletico, che può essere anche personalizzato a seconda delle esigenze individuali, rappresenta qualcosa di unico nel panorama nazionale. Uno staff di professionisti prepara al meglio gli iscritti per farli giungere all'appuntamento calcistico nella migliore forma possibile. La splendida cornice dell'hotel Sheraton ospita ogni anno la presentazione dei campionati e la premiazione di tutti i tornei. Si tratta di un appuntamento immancabile che avvicina al calcio d'inizio della nuova stagione sportiva. Anche gli arbitri sono pronti ad affrontare la nuova stagione. Sono gli oltre 50 direttori di gara della IACAM, associazione italiana arbitri di calcio amatoriale. Tutti i direttori di gara hanno ricevuto le nuove disposizioni tecniche, conoscono il regolamento e devono applicarlo al meglio per garantire la massima regolarità dei campionati. Come ogni anno grande attenzione, avranno i premi assegnati alle migliori squadre. Si gioca, ci si diverte in campo, ma tutti vogliono vincere. Calcio Liguria assegna oltre 30.000 euro ogni anno di premi. Le migliori squadre possono anche qualificarsi alla Coppa di Lega o alla Champions Liguria, competizioni dedicate alle squadre top. Pallone d'oro, scarpa d'oro e premio bravo sono poi dedicati ai migliori giocatori e ai cannonieri stagionali. Quest'anno c'è anche una novità. Grazie all'accordo con Quoni Best Tour, azienda leader nel panorama dei viaggi e delle vacanze, la squadra che vincerà il campionato A7 2012-2013 si aggiudicherà 10 splendidi viaggi in una meta esotica che sarà successivamente comunicata. Per i prossimi dieci anni Calcio Liguria avrà la sua base operativa sui campi di coronata che proprio in questi giorni stanno ultimando una storica riqualificazione. Non è stato semplice per Calcio Liguria coordinare tutte le operazioni legate al progetto dei campi di coronata, ma il sogno di una cittadella sportiva d'eccellenza sta diventando realtà. E con queste belle immagini che auguriamo a tutti i nostri amici un sentito in bocca al lupo per una stagione ricca di soddisfazioni.